L'account Aruba è composto da username del tipo 123456-aruba.it e relativa password e permette di acquistare nuovi servizi, gestirli e rinnovarli. Durante l'ordine di un qualsiasi servizio Aruba si visualizza il form nuovo cliente da cui eseguire l'iscrizione anagrafica ed ottenere l'account Aruba cliccando su Registrati. In alternativa, è possibile ottenerlo in qualsiasi momento effettuando la registrazione gratuita su signup.aruba.it. Selezionare la tipologia di soggetto tra persona fisica, azienda, libero professionista, ditta individuale o pubblica amministrazione. Inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale o partita IVA in base al tipo di registrazione che si sta effettuando. Alla voce Contatti è consigliato inserire un numero di cellulare valido e funzionante, utile per il recupero delle credenziali. È obbligatorio indicare e confermare un indirizzo e-mail valido e funzionante al quale verranno inviate le informazioni relative alla registrazione che si sta effettuando e tutte le successive comunicazioni Aruba. Si ricorda che le caselle di posta elettronica certificata di default non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta ordinaria. Nel caso si inserisca un indirizzo PEC come e-mail di riferimento, procedere quindi all'abilitazione. Dichiarare di aver preso visione dell'informativa privacy e rilasciare o meno il consenso al trattamento dei dati. Premere su Avanti con la registrazione. Sulla pagina Credenziali di accesso viene visualizzato lo username Aruba del tipo 123456-aruba.it Scegliere e ripetere una password personale da associare allo username, seguendo i requisiti riportati. Le voci diverranno verdi man mano che la password rispetterà i criteri richiesti. Cliccando su Avanti, la creazione del proprio account Aruba è conclusa e si riceve una e-mail di conferma. Cliccando su Avanti